ciao a tutti oggi vediamo questo contafili è particolare perché viene chiamato il gigante in quanto la forma è quella di un contafili ma è molto più grande la lente ha un diametro di 90 millimetri e vediamo la struttura quasi 10 centimetri di base ingrandisce due volte e si può richiudere proprio come un contafili questo modello in particolare ha anche la luce e funziona con quattro batterie vediamo che la struttura totale è di oltre 12 cm vediamo qui il confronto con un contafili da un centimetro di base ciao a tutti se vi servono lenti di ingrandimento visitate il sito elettronicadidattica.com a presto